presentano questo carro tratto dal famoso cartone animato di Walt Disney eccoli quali abbiamo le guardie, i picchi e i cuori tante persone volonterose, grandi piccini hanno preparato questo carro con i suoi meravigliosi personaggi dal bianco miglio, cappellaio matto, lo stregatto, pingo pango e pango pingo, la regina bianca il re e la regina di cuori con gli armigeri, le carte da gioco i fiori e i funghi dove vive il brucaliffo a trainare questo bellissimo carro c'è il magico stregatto tutti i costumi originali creati appunto dal gruppo in qualche weekend dedicato a questo lavoro per il carnevale bellissimi questi costumi, i personaggi guardate quanti personaggi che si mettono il carro vero e proprio con lo stregatto che anticipa Alice ecco noi il brucaliffo, il saggio guardate quanti personaggi che si mettono il ruo Grazie a tutti